Di seguito alcuni suggerimenti per l'asciugacapelli hc60. Accendere l'apparecchio. L'asciugacapelli è dotato di un sensore di contatto, vale a dire che l'apparecchio si attiva solo se si circonda con la mano il sensore presente nell'impugnatura. Sono disponibili due livelli di ventilazione, livello 1, lusso d'aria delicato, livello 2, lusso d'aria forte. È possibile scegliere tra tre livelli di calore, temperatura bassa, media o alta. Il colpo di freddo consente di dare il tocco finale all'acconciatura. Raffredda i capelli e li fissa. È possibile asciugare i capelli e acconciarli in base alle proprie esigenze. Prima di procedere alla pulizia, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente. L'apparecchio e gli accessori possono essere puliti con un panno morbido inumilito. Attenersi alle istruzioni per l'uso e alle avvertenze di sicurezza. Ci auguriamo che sarete soddisfatti dell'asciugacapelli hc60 di Boire. Grazie a tutti.